Siamo arrivati! Vieni fuori. Isolati, faded! Sì. Come pensai? Lo squalo di Jable non è molto buono da mangiare. La carne è grassa. La pelle è troppo dura per qualunque indumento. Quello che invece ha in abbondanza è l'olio. L'uscio protegge. Questa non è per te. Questa non è per te. Questa non è per te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.